amici di intertv.it bentornati da Michele Borrelli alla video rassegna martedì 14 luglio entriamo nel vivo di una settimana molto importante una settimana che vedrà la conclusione del ritiro di Riscone di Brunico e vedrà la partenza per la Cina con i convocati che giocheranno appunto contro Bayern Milan e Real Madrid il 21 il 25 il 27 luglio ma torniamo alle prime pagine dei giornali sportivi perché si parla non solo di mercato non solo di Perisic, Ovetic e Salah e Zucanovic ma anche interviste a giocatori dell'Inter che fu e dell'Inter che è e qualcuno prevede l'Inter che sarà partiamo proprio da l'intervista a Tiago Motta sulla Gazzetta dello Sport l'ex nerazzurro che apre al ritorno Inter senti Tiago Motta pronto a un nuovo ciclo non ha senso restare al Paris Saint Germain l'ho già detto anche a Blanc Mancini vuole Perisic per la tournée per Zucanovic ci siamo e quindi questo è il punto sul mercato dell'Inter vediamo invece il mercato giallorosso liberate Zecco è ostaggio del City ma la Roma insiste quasi 10 milioni tra le parti trattativa aperta Sabatini però blocca Mitrovic il giovane giocatore dell'Underlec per l'Inter quindi un'apertura per Tiago Motta un Perisic che secondo la Gazzetta può arrivare prima della tournée e Zucanovic che ormai è cosa fatta il dramma di basso scuote il tour forza Ivan ho un tumore devo lasciare nel giorno di riposo dall'annuncio con Contador comunque sono sereno e ottimista sarò io a vincere oggi consulto a Milano poi l'operazione il commento quanta dignità nel giorno più duro torniamo però al calcio con Gigi Buffon che ha 20 anni calcistici Juve nazionale tutte le sfide dell'infinito Buffon a 37 anni il portiere riparte questa settimana per la ventunesima stagione con altri traguardi e poi l'addio di Tevez a Torino ho ritrovato felicità vediamo anche gli appuntamenti con delle interviste importanti perché riguardano in questo caso l'Inter Allegri che ha Condo Confidential il programma di Gazzetta TV dice cresco giocatori uomini basta polli di allevamento e appunto stasera ci sarà Roberto Mancini preziosi rabbia e orgoglio mi scuso per l'UEFA ma ora rilancio il Genoa e poi chi si rivede Vratislav Gresco il peso del passato niente calcio solo teatro però quel 5 maggio puntini di sospensione e ancora altri ex interisti in questo caso Ranieri Claudio Ranieri che torna in Premier guiderà il Leicester proprio dove ha giocato quest'anno Esteban Cambiasso divorzio capello Russia e quindi anche qui si consuma una storia in questo caso tra un CT italiano e la Russia che organizzerà i mondiali poi gli altri sport con la bufera in nazionale di pallavolo notte brave in Brasile Zaitsev e Travisa e altri due a casa il re di Wimbledon Djokovic che balla con Serena così sono arrivato al top e poi leggiamo il rompipallone di Genegnocchi Mercato Lotito ha deciso l'Aquila Olimpia un anno in prestito alla Salernitana e quindi chiudiamo con il sorriso dopo la notizia drammatica di Basso Forza Ivan ci uniamo alla Gazzetta dello Sport e chiudiamo la Gazzetta dello Sport ricordando appunto Tiago Motta che dice pronto a un nuovo ciclo quindi vuole lasciare il Paris Saint Germain Corriere dello Sport Forza Ivan anche dal giornale romano il dramma di Basso o il cancro a un testicolo lascio il tour lotterò da Armstrong a Nibali e Contador tutti con lui Forza Ivan e poi l'intervista esclusiva a Icardi un Icardi esclusivo Juve vinco io con le parole di Icardi poi naturalmente nella giornata le commenteremo anche a Obiettivo Inter le troverete su intertivo.it Inter il titolo di capo cannoniere non mi basta dice Icardi voglio lo scudetto avevo offerte però qui è il top e con Mancini sto sempre meglio Ibra vale Messi ma ho la sensazione che rimanga al Paris Saint Germain con dobbia e super intanto elogia anche la moglie Wanda perfetta anche da manager nessun rapporto tra noi e Maxi Lopez lo rivediamo Icardi con il solito gesto mani e braccia alle orecchie per l'esultanza e la Roma invece offensiva Roma per Geco si tratta oltranza accordo col giocatore ma con il City è dura Rondon l'alternativa in questo caso si parla appunto di Rondon il giocatore che ha anche fatto bene con il Venezuela in Coppa America Nainggolan rinnova la Fiorentina dice salà mai in Italia lo vedete della valle questa guerra tutta personale della Fiorentina soprattutto con l'Inter Berlusconi Ibra da noi all'Expo ha detto a un ragazzo a un bambino Ibra da noi se vuole e anche qui lascia ancora una volta la porta aperta il Napoli in pressing per Astori obiettivo per la difesa di Sarri fuga notturna al volley il Cittine fa fuori 4 spediti a casa c'è anche il capitano Rio un caso scuote l'Italia e questa appunto la notizia abbiamo visto anche sulla Gazzetta dello Sport e poi le rivelazioni d'estate stregati da Morrison il nuovo Gaza laziale sregolato e folle ma quanta classe vedremo se Morrison si confermerà o stupirà i tifosi della Lazio che si giocherà già all'inizio di agosto la Supercoppa italiana con la Juve a Pechino l'otto sabato la sorpresa ritorno in Premier Ranieri a Leicester a Empoli i compagni ritirano la 10 di Tavano Corea battuta trionfo italiano alle Universiadi quindi l'Italia che vince il torneo andiamo a vedere anche la prima pagina di Tutto Sport che apre con come il Corriere dello Sport come la Gazzetta forza Ivan non mollare Ivan Basso il dramma di Basso costretto ad abbandonare il tour o un tumore oggi è già sotto i ferri e questa è la storia di Ivan Basso speriamo di raccontare presto il lieto fine Juve Osil Ira Wenger il tecnico dell'Arsenal questa storia è solo colpa dei suoi agenti Di Bala in forma Zazza sbarbato i nuovi al lavoro Grint e sudore Chedira che orgoglio e l'azzurro si è subito adeguato allo stile Juve lo stile soldatini avrebbe detto Cassano quindi niente barba però vediamo il pizzetto di Chedira ben ordinato può passare Iguain senza chili e spocchia voli scoppiettante intervista a Orrico con Rado Orrico Orrico l'allenatore dell'Inter 1991-92 al Milan servono difensori altro che Ibra Toro per fortuna ai Ventura quindi gli elogi di Corrado Orrico a Ventura i tifosi vogliono Belotti al Toro piace il progetto giovani ai tifosi del Torino e sale la febbre nel ritiro di Bormio plebiscito per l'attaccante del Palermo la gente dice incedibile vedremo per quanto riguarda appunto Belotti se Maximovic è incedibile è l'editoriale di Vittorio Oreggia andiamo a vedere anche le altre notizie quindi non solo Juventus e Torino intesa viola Chelsea punto interrogativo salà stop all'Inter per quanto riguarda la Roma shock Geko shock perché abbiamo visto che letto che il Manchester City non vuole abbassare la richiesta superiore ai 30 milioni di euro per quanto riguarda la Fiorentina si parla di un'intesa col Chelsea per non dare il giocatore proprio all'Inter oggi secondo test per per quanto riguarda il Milan e intrigo Ibra e Romagnoli vola via quindi potrebbe allontanarsi dal Milan Zapata Sassuolo e Preziosi che dice Sissoko è un botto al Genoa e congiunzione è un botto al Genoa quindi Sissoko è un altro acquisto per i rosso-blu italiani all'estero come detto Russia ciao Capello ma soprattutto Ranieri va a Leicester Italvolli nel caos come detto pallavolisti di notte Berruto ne caccia 4 queste erano le prime pagine dei giornali sportivi in martedì 14 luglio presa della Bastiglia vediamo se l'Inter conquisterà anche la Cina non prima di aver affrontato il Carpi mercoledì 15 il pomeriggio e saremo qui alla sera a commentare la partita tra Inter e Carpi la seconda stagionale la prima contro una squadra di Serie A obiettivo Inter tutte le sere anche questa settimana dalle 23 alle 24 grazie a tutti